Ciao e benvenuto su Psynel, il podcast italiano di psicologia e crescita personale. Io sono Gennaro Romagnoli e questa è la novantunesima puntata di questo podcast, dedicata ad una delle mie più grandi passioni, che molto probabilmente è anche una delle tue passioni, o perlomeno molto probabilmente lo è stata nel passato, cioè la musica. Penso non ci sia bisogno di dirti quanto faccia bene al tuo cervello un po' di musica, un pizzico di suono e quanto questo suono possa aiutarti nel tuo percorso di crescita personale. Oggi scoprirai come utilizzare un semplice brano musicale per farci molte cose interessanti, compresa una meditazione informale. Bene, iniziamo! Oh, molto bene! Allora, com'è andata questa settimana? Ti ringrazio tantissimo per i mi piace che hanno, i mi piace, le, come si chiamano, le recensioni su iTunes che hanno permesso al podcast di essere fra i primi posti dei podcast italiani. Quindi, in caso tu non l'abbia ancora fatto, sappi che una delle cose che puoi fare per aiutarmi a far crescere il podcast e per dimostrarmi, diciamo così, l'apprezzamento, il tuo apprezzamento per questo mio lavoro, è quello di andare su iTunes e mettere la tua review a 5 stelle, se puoi, e un piccolo commento. La stessa identica cosa puoi farla qui, all'interno del blog, all'interno di Spreaker, insomma, condividendo questo contenuto con chi credi possa esserne interessato. Allora, oggi parliamo del potere della musica. Ne abbiamo parlato tante volte, ma è un argomento talmente importante per me che di tanto in tanto amo farci qualche piccola riflessione. Allora, prova a rispondere a questa domanda. Quanto ti piace la musica? Quanto ascolti la musica? Quanto frequenti la musica? Bene, il potere della musica sulla nostra anima è qualcosa che si conosce sin dagli albori dei tempi. Ti basta sapere che già nell'antica Grecia se ne parlava. Il mondo della psicologia ne parla da sempre ed anche qui su Psynel trovi decine e decini di studi e di post dedicati a questo argomento. La musica sembra essere una delle palestre più potenti per migliorare diversi aspetti del nostro cervello. Ho pensato di registrare questo podcast dopo aver visto un interessantissimo video del TED con una collega violinista, video che ovviamente troverai all'interno del post. Tutto sommato, se ci pensiamo bene, la musica è talmente importante che la impariamo anche a scuola, tanto che diversi anni fa inserirono la musica all'interno delle materie obbligatorie delle scuole medie. Così se hai fatto le scuole medie, molto probabilmente avrai studiato un pizzico di musica. Certo, come al solito, il nostro sistema educativo, che in realtà si chiama di istruzione, non funziona molto bene. Così qui in Italia l'educazione musicale nelle scuole non solo lascia a desiderare o ha lasciato a desiderare, ma ha contribuito a creare quel fastidioso fenomeno scolastico di allontanamento delle persone e dei ragazzi nei confronti della musica piuttosto che di avvicinamento. Non so se hai mai avuto un professore che non sapeva spiegare, non so, la matematica, e molto probabilmente oggi odi la matematica, ok? Questo è un discorsone perché dipende anche da quanto sei portato, eccetera. In altre parole, questo sistema scolastico, invece di invogliarci a coltivare a tutti quanti un pizzico di musica nelle nostre vite, ci ha allontanati un pochettino da questa tendenza per la quale è stata inserita la musica, cioè la comprensione che è tanto importante, troppo importante, per essere lasciata fuori dagli studi, diciamo così, classici, normali. Ok, Jenna, sappiamo tutti quanto lascino a desiderare le nostre scuole, ma puoi farci degli esempi pratici su che cosa può servire la musica, oltre che ad intrattenermi per andare a ballare? Certo, hai due o tre mesi? Hai due o tre mesi di tempo? Non sto scherzando, i benefici della musica sono tantissimi, ne citerò solo alcuni tratti da alcune ricerche che ho raccolto qui su Psynel, che come sempre potrai trovare nel quaderno degli esercizi di questa puntata. Partiamo da uno degli studi più famosi in assoluto, il cosiddetto effetto Mozart. Sapevi che ascoltare anche solo dieci minuti di uno dei tanti brani di Mozart aumenta la tua capacità visospaziale, cioè la tua capacità di muoverti nello spazio, la tua memoria, la tua creatività ed anche la capacità di risolvere dei problemi di matematica? No, non si tratta di una diceria, non è un mito. Sono stati fatti numerosi studi su diversi brani di Mozart. E a quanto afferma il nostro psichiatra italiano, uno degli psichiatri più famosi per la divulgazione, cioè Crepe, una musica diffusa di Mozart all'interno di un ambiente caotico come una scuola elementare invoglie i bambini a fare molto meno casino. Insomma, un vero tocca sana, ma in realtà tutta la musica ha stimolazioni benefiche sul nostro cervello. Ci sono studi che ne dimostrano la forza nell'apprendimento, nell'apprendimento del linguaggio in modo specifico e nel modo di comunicare che abbiamo. Dopotutto il nostro linguaggio è in una certa misura musica. Ci sono pause, intonazioni, ritmo, velocità, eccetera, eccetera, timbro, timbro. Insomma, per farla breve, se vuoi essere più creativo, stimolare la neuroplasticità, cioè quella parte che modifica, quella capacità incredibile del nostro cervello di modificarsi, prenderti una pausa ristoratrice, caricarti per un evento importante, migliorare il tuo apprendimento, migliorare le tue doti viso-spaziali e comunicare con maggiore efficacia? Ecco, tutto questo puoi ottenerlo frequentando, ascoltando e giocando con la musica. Mi piace usare questo gioco di parole. Quando dico giocando, mi riferisco un pochettino alla traduzione diretta del verbo inglese to play, che significa suonare uno strumento. Sì, perché i benefici più grandi li hai se suoni uno strumento. Uno qualsiasi, a qualsiasi livello. Certo, ascoltare fa benissimo, ma suonare pare che faccia un pizzico meglio. Anche il semplice fischiettare, cantare, fa bene. Ok, Jenna, ma adesso a 40 anni dovrei mettermi lì ed imparare a suonare uno strumento? No, 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 non è necessario che impari davvero, ma se vuoi giocarci, appunto, to play, sappi che puoi farti un sacco di bene. Ti fai un sacco di bene. Grazie, ad esempio, a internet, a questa cosa che stai frequentando in questo momento, che hai in tasca. Ho visto che la maggior parte delle persone che ascoltano il podcast lo fanno dall'iPhone. Immagino anche da altri cellulari. Puoi farlo da tutti i cellulari con diverse applicazioni per scaricare il podcast. Quindi, sappi che anche nella tua tasca hai uno strumento potentissimo per fare musica. Hai presente i vari stacchetti che hai ascoltato qui su Psynel? Li ho fatti io con l'iPhone, ok? Anzi, li ho fatti con l'iPad, ma avrei potuto farli anche con l'iPhone, attraverso GarageBand. Ma anche su Samsung ci sono cose del genere e anche su tutti gli altri, ormai su tutti i cellulari. Quindi, riprendiamo, partendo dal web, insomma, il fatto che tu possa utilizzare il web per imparare. Adesso, se vuoi imparare qualsiasi strumento, ti metti lì e inizia a impararlo. Ti faccio una confessione. La mia compagna, ma forse te l'avevo già detto, mi sembra di sì, stai imparando a suonare il violoncello. Ed è meraviglioso che lei abbia deciso, in quest'anno, di imparare a suonare il violoncello. E questo dimostra che si può imparare a suonare uno strumento in qualsiasi momento della propria vita. E lei lo fa, certamente, sta prendendo lezioni, ma si aiuta tantissimo attraverso il web, attraverso YouTube. E non potevo neanche immaginare quanti video didattici esistono su YouTube dedicati a imparare a suonare il violoncello. Ti assicuro, c'è una galassia là fuori. Ok, ma l'esercizio che voglio presentarti oggi non è quello di imparare a suonare uno strumento. Anche se, ti ripeto, ti farebbe benissimo. E probabilmente all'interno del quaderno degli esercizi inserirò anche come potresti farlo in 20 ore. Ti ricordi, il nostro podcast è dedicato alle 20 ore. In questi anni ti ho parlato tantissimo di meditazione e di quanto faccia bene fare questa pratica, questo esercizio dell'attenzione. Ti ho mostrato decine di studi e tantissimi esercizi. Se mi hai seguito con attenzione, sai che meditare non significa altro che portare una certa qualità di attenzione a ciò che stai facendo. Qualsiasi cosa essa sia, anche in questo momento, mentre ascolti le mie parole. Ciò che voglio presentarti adesso è un semplicissimo esercizio che forse hai già sperimentato. Un esercizio che potremmo chiamare meditazione musicale. Anche se dare tutti questi nomi non significa davvero una mazza, perdonami il linguaggio. Se pensiamo che i popoli modificano il loro stato di coscienza attraverso la musica da millenni, ecco, direi che utilizzare termini nuovi fa un po' ridere, però visto che siamo giovani e divertenti, visto che appunto non facciamo parte del pleistocene, la chiameremo comunque la meditazione della musica. Sì, perché non devi farla con una musichetta sacra, con campane tibetani, tamburi ripetuti e chissà quale altra diavoleria sperimentata nei secoli, ma semplicemente prendendo qualcosa che ami ascoltare e facendolo con un atteggiamento mindful. Quindi, semplicemente, ascoltando con intenzione nel presente e senza giudicare. Ti ricordo, non giudicare non significa che non devono passarti per la mente dei giudizi. Questo è davvero, davvero difficile che accada, anzi, ma devi lasciar perdere ogni giudizio che ti viene in mente, ogni pensiero, ogni catena associativa mentale per tornare gentilmente a ciò che stavi ascoltando. Te lo ripeto, per tornare gentilmente a ciò che stavi ascoltando. Senza giudicarti, quindi, duramente, perché ti sei distratto, ti sei fatto prendere dai ricordi. E sì, perché la musica ha un potere gigantesco sulla nostra memoria. Per questo molte coppie hanno la loro canzone. Però l'ascolto mindful non sta nel lasciarci prendere da questi ricordi, ma osservarli e tornare gentilmente a ciò che stavamo facendo. Ascoltare quel brano, quello strumento, quel cantante, anche se ci siamo persi più e più volte, ricordandoti di farlo gentilmente. Lì, gentilmente, ritorni ad ascoltare. Ok, Jenna, ma tutte le volte che faccio questi esercizi, mi perdo talmente tante volte che mi passa la voglia, mi scoraggio. Capisco benissimo. Succede anche a me qualche volta. L'antidoto migliore che ho trovato è il tenere bene a mente che questo è lo scopo della mindfulness, della meditazione. Cioè, renderci conto che ci siamo persi e tornare indietro in modo gentile. Se tu non ti perdessi, faresti davvero poco, poco esercizio. Ed ogni volta che ti accorgi e ritorni, stai sviluppando proprio quel muscolo che potremmo, in modo semplice, chiamare attenzione. E quando torni gentilmente, stai sviluppando una facoltà portentosa, che alcuni chiamano autocompassione. Stai deautomatizzando quel critico in piccione che spesso rompe le scatole. E tutto questo lo fai semplicemente attraverso questo andare e tornare, perderti, sbagliare e ritornare. Diciamo che la meditazione è un modo per osservare anche quando sbagliamo, quando ci perdiamo, sviluppando così quella che viene chiamata anche come metacognizione, la capacità di osservare i tuoi pensieri. Ok, adesso sono sicuro di averti dato più o meno una buona panoramica prima di tuffarci all'interno dell'esercizio. Ti ricordo che una delle cose più belle che tu possa fare per te stesso, se senti che è nelle tue corde, è proprio quello di imparare un nuovo strumento, di metterti lì e giocare con qualsiasi strumento. Hai sempre desiderato imparare a suonare la chitarra? Vai a comprartela, ci sono chitarre che costano 30 euro, vai alla Feltrinelli, faccio una pubblicità senza essere pagato, vai alla Feltrinelli, ci sono delle chitarrine interessantissime, costano 20, 30, 40, 50, 70 euro massimo. Puoi prenderle, ti metti lì, poi vai su internet, giusto per darti un'indicazione, puoi andare sul canale di Massimo Varini e ci sono un sacco di video didattici gratuiti che puoi guardare, che puoi sperimentare, ma ci sono tanti altri, diciamo così, insegnanti di musica molto bravi che ti insegnano diverse cose. Vuoi imparare a suonare il piano, il violino? Attenzione, ti ripeto, non sto dicendo diventare un professionista dello strumento, ti sto dicendo semplicemente quello di diventare un dilettante, cioè qualcuno che si diletta, e poi magari diventare un amatore, quindi qualcuno che ama lo strumento, non diventare un professionista, cioè qualcuno che lo fa per denaro, perché quello a volte rovina un po' la poesia. Bene, detto questo, bando alle ciance e andiamo a vedere il piccolo esercizio che ho immaginato per te. Primo, prima che tutto abbia inizio, centrati nel presente. Potresti farlo in qualsiasi modo tu già conosca, potresti fare qualche respiro consapevole, fare un piccolo body scan, utilizzare la meditazione veloce che abbiamo visto qualche podcast fa, oppure usare il tuo modo personale per entrare nel presente, per trovare quello stato giusto di ascolto. Quindi, prima di scegliere, diciamo così, il brano che vuoi ascoltare, ti metti lì, porti l'attenzione nel momento presente, e poi inizia ad ascoltare la musica. Secondo, formale ed informale. Come avrai intuito, questo esercizio può essere fatto in modo formale oppure in modo informale. Cioè potresti decidere di sederti ogni giorno per un tot di minuti ad ascoltare la musica seguendo, seguendo queste indicazioni, oppure di tanto in tanto, quando ti accorgi di ascoltare un brano, spostare la tua attenzione in quel modo particolare, che noi chiamiamo IOS. Quindi, ti ripeto, all'ennesima volta, per l'ennesima volta, IOS sta per intenzionalmente, ora, nel presente, e senza giudizio. Il mio consiglio è quello di sperimentarlo il più possibile. Quindi, sia in modo formale che in modo informale. Proprio come ti ho descritto poco fa, all'interno del corpo, diciamo così, del podcast. Quindi, dovresti A. Scegliere un brano che ti piace. Se decidi di farlo in modo formale, scegli un brano che magari ascolterai più volte, senza doverlo cambiare più di tante volte. B. Iniziare ad ascoltarlo cercando di stare nel presente, ascoltandolo con tutto te stesso, di nuovo senza giudicare, senza farti trascinare dai ricordi, dalle associazioni, eccetera. Ti ripeto, questi ricordi, queste associazioni, arriveranno comunque. Tu devi semplicemente accorgerti che ti hanno catturato e tornare gentilmente ad ascoltare ciò che stavi ascoltando, proprio come in ogni tipo di mindfulness. Terzo, generale e particolare. Per allenarti in modo ancora più interessante, più curioso, più stuzzicante, potremmo dire, anche se è una parola che stride col termine della meditazione, puoi spostare la tua attenzione dal generale al particolare. Puoi decidere di ascoltare solo un singolo strumento, concentrandoti su di lui nel modo più attento possibile, magari l'hai già fatto nel passato, spostarti in questo modo da uno strumento all'altro, oppure cercare di ascoltare il tutto, l'ensemble, ciò che emerge dalla mescolanza e dall'intreccio dei suoni. È chiaro che se sei un musicista o un buon ascoltatore, un appassionato, un amatore, non ti sarà difficile ascoltare un solo strumento o tutto l'insieme, ma ricordati di farlo in modo mindful. Se invece provi difficoltà a farlo, nessun problema. L'esercizio è di meditare su ciò che ascolti, non è una gara di ascolto musicale di chi ha l'orecchio assoluto, oppure no. Però non fa male cercare di sforzarti un pizzichino di tanto in tanto per provare ad ascoltare maggiormente i dettagli, se solitamente non ci riesci, oppure l'insieme, se solitamente non ci riesci. Quindi una specie di bilanciamento. Se noti di essere bravo a ascoltare il tutto, di tanto in tanto porta l'attenzione sul dettaglio e viceversa. Quarto, ascolta il tuo corpo. O meglio, come risponde il tuo corpo alla musica. Che sensazioni ti fa vivere? Come sempre, con lo stesso identico atteggiamento della mindfulness. Però non si tratta, voglio sottolineare per gli esperti, di un body scan, ma di un'attenzione leggera che ascolta come le onde sonore influenzano sul nostro corpo. E posso assicurarti che lo influenzano e come. Anche la mia voce in questo momento, anche se tu non ci fai caso, influenza il tuo corpo. Influenza le tue reazioni fisiologiche. Cioè, se io adesso mi mettessi a parlare in modo molto veloce, molto veloce, in questo modo, dopo un po' di tempo, sicuramente ti verrebbe un po' di agitazione. Se invece io mi mettessi a parlare in modo un po' più lento, un po' più profondo, facendo delle pause un po' più lunghe, probabilmente anche il tuo respiro si calmerebbe. È ovvio che c'è qualcuno che si annoierebbe. Siamo tutti differenti, siamo tutti diversi. Questa è la meraviglia dell'essere umano. Bene, allora, sono riuscito a convincerti a fare questo esercizio o a iniziare un po' a meditare? Ci sono due ottime motivazioni per farlo. La prima è quella di continuare a coltivare la presenza e la seconda è l'esporsi alla musica. Non ami la musica? Non ci credo. Forse non saresti arrivato fino qui ad ascoltarmi, anzi, quasi sicuramente, a parte gli scherzi. Ti basta accendere la radio, ascoltare qualche brano, se suoni e non lo fai da un pezzo, riprendere in mano il tuo strumento giusto per giocarci, non devi diventare Mozart per sentire l'effetto della musica. Non mi credi? Non sai suonare, non sai fare, sai fischiettare? Prova a fischiettare un motivo che ti piace. Prova a vedere come il semplice fischiettare modifica il tuo stato interiore. Insomma, per questa settimana e per tutto il tempo che tu di cui ne desideri fruire, fai un bel bagno all'interno della musica. Ti assicuro, ci sono pochi esercizi che hanno dimostrato avere un effetto così profondo di cambiamento e di stimolazione sul nostro cervello. E all'interno del podcast ti metterò anche il video dove c'è anche qualche piccolo dettaglio su come cambia il nostro cervello quando lo immergiamo all'interno della musica. Bene ragazzi, siamo arrivati al termine di questa puntata della novantunesima puntata del podcast. Tenetevi pronti perché nelle prossime settimane, spero entro la fine di ottobre se ci riesco, vi arriverà un piccolo sondaggio solo per chi è iscritto alla mailing list di Psynel, un piccolo sondaggio che parlerà appunto di meditazione. Quindi tieniti pronto quando ti arriverà questa email ti chiedo il piccolo piacere di rispondere a qualche domanda che non ti ruberà più di dai 3 ai 5 minuti e mi farai un grosso piacere per capire di che cosa parlare, quale argomento approfondire nei confronti della meditazione ed anche nella creazione di un piccolo percorso di pratica meditativa online. Bene, come sempre ti invito a venire sul post, a leggerlo, a scaricare il quaderno degli esercizi, a andare su iTunes, a mettere la tua review a 5 stelle e farmi sentire che c'è qualcuno che continua a sostenere il lavoro di Psynel. Come sai, sono qui da solo nella mia stanzetta, non è che ho davanti le oltre mille persone che ascoltano tutte le settimane questo audio, molte di più di mille, ma giusto per non fare troppo quello che se la tira, sai che mi piace un pochettino, quindi giusto per non tirarsela troppo, diciamo, le tante persone che mi ascoltano tutte le settimane non le vedo davanti a me, fammi sentire il tuo sostegno con un bel mi piace su Facebook, con una review a 5 stelle, con un tuo commento o perché no, con tutte queste cose insieme. Bene, ti ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Gennaro Romagnoli di psicologia neurolinguistica punto net per avermi ascoltato Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.